Wabalaba dab dab e bentornati su No Mamamazzo, bentornati nella rubrica film in uscita e nella rubrica Marvel. Parliamo insieme di Wakanda Forever. Devo subito dire una premessa. Io per Wakanda Forever avevo zero, zero hype. Non mi interessava addirittura, se non avessi un canale YouTube che ne parla, non sarei neanche andato al cinema. Non mi interessava assolutamente vedere un film senza il protagonista. Non mi interessava assolutamente questa cultura del non recasting per nessun motivo, per rispetto dell'attore, per quanto ne sia dovuto. Avrei tranquillamente recastato e secondo me sarebbe comunque stato rispettoso nei confronti dell'attore portare avanti la trama con appunto una dedica extra diegetica, come appunto c'è anche stata. Ma continuando a livello narrativo con la presenza del personaggio. Ma siamo in un'epoca molto particolare, molto sensibile, dove pare che non si possa nemmeno recastare un personaggio, perché sembra di mancargli di rispetto. Quello che invece ho trovato io nella mia cultura molto fredda, molto nordica, molto chiusa, quello che ho trovato io, una mancanza di rispetto, è sembrato invece... Mi sono sembrati invece i primi cinque minuti iniziali, dove appunto tutti questi fassi, tutto questo mostrare un finto funerale per una persona che è morta davvero, mi è sembrato davvero di cattivo gusto. Tant'è che avevo già intenzione di intitolare questo video perché Wakanda Forever mi sta sulle palle o perché Wakanda Forever mi fa schifo come film, eccetera, eccetera. Poi però è successo qualcosa. Questo film mi è piaciuto. Andando oltre appunto questa... questo Lost in Translation culturale tra cosa è rispettoso per gli americani e cosa è rispettoso per me, tralasciando questo momento iniziale in cui non mi ci sono ritrovato, il film inizia a prendere piede, tra virgolette, perché è molto lento nel prendersi il suo ritmo, e quello che dicono, quello che c'è all'interno, mi è piaciuto molto. Moltissimo. Proprio forse al netto del fatto che non avevo nessuna aspettativa. Prima di cominciare, se ancora non l'avete fatto, vi chiedo di iscrivervi al mio canale, di mettere un bel mi piace a questo video, a un non mi piace, e anche a tutti gli altri che vi frega di condividere il video con tutte le persone che amano il Wakanda e commentare qui sotto con quello che ve ne è parso di questo film e cosa ne pensate di questo concetto del recasting, del non recasting, se le vostre aspettative sono state esaustive, insomma, se siete stati contenti oppure no. Seguitemi anche sugli altri miei social, tra cui Instagram, Twitch e TikTok. Ho trovato invece molto corretta la scelta di lasciar passare un anno dopo appunto la morte del personaggio Challa, e in totale appunto siamo a sei anni dallo schiocco di Thanos, dallo Snap, non dal Bleep, e questo poi servirà per una cosa che c'è alla fine. Mi sono trovato appunto concorda nel lasciar passare un anno perché è impossibile gestire l'elaborazione del lutto appena è fresco, quindi mostrarci i personaggi che hanno avuto un anno di tempo per la propria elaborazione del lutto o la mancata elaborazione del lutto è stata, secondo me, una scelta vincente e infatti ci mostrano proprio i vari confronti generazionali tra, per esempio, la regina madre che ha tutto un suo rituale, ha avuto un anno di tempo per elaborare, ma ha avuto anche un anno di tempo in cui ha dovuto regnare al posto di suo figlio con continui attacchi, attacchi di soppiato al Wakanda per questo maledetto vibranio e quindi è una regina molto cinica, molto chiusa. Anche la scelta di Challa di condividere le tecnologie wakandiane con il mondo, come detto da lui alla fine del primo film, sono state comunque parzialmente cambiate proprio per evitare di condividere il vibranio con esso. non tanto per la pericolosità del vibranio, come dice la regina, ma per la pericolosità del mondo nell'usarlo. Quindi Wakanda fondamentalmente dice se finisse nelle mani sbagliate questo prodotto saremo noi la causa di armi di distruzione di massa. Siccome noi siamo più saggi del resto del mondo, col cazzo che ve lo diamo. e è un atteggiamento molto superbo, ma fondamentalmente hanno ragione perché in tutti questi anni di storia così è stato. Hanno dimostrato che questa loro superiorità morale è ben fondata e quindi hanno ragione di non condividere questa cosa. Dall'altro lato invece vediamo l'elaborazione del lutto di Shuri, che fondamentalmente non c'è. Shuri continua a essere chiusa Ikikomori style nel suo laboratorio sprofondando nella tecnologia. Quindi c'è proprio questo contrasto tra tradizione e tecnologia che c'era anche un pochino nel primo film con Challa e in generale con le tradizioni wakandiane e il nuovo che avanzava. C'è un po' questo tema che viene portato avanti. e fondamentalmente la protagonista di questa pellicola dovrebbe essere Shuri e la sua elaborazione del lutto. E dico dovrebbe perché comunque la palla o il testimone passa davvero parecchio in mano a prima la regina madre per un buon primo atto, poi passa a Shuri ma non la vediamo come protagonista d'azione ma quasi come principessa Disney rapita che cerca di fare amicizia col villain come Riri Williams stessa cita La Bella e la Bestia e i simili e poi vediamo invece un secondo atto dove ritorna in pompa magna Nakia che per un primo tempo iniziale sembrava quasi che che manco ci fosse l'attrice invece con mia somma gioia perché io adoro l'attrice ritorna Nakia al punto che per un secondo io ho pensato ok mi sono sbagliato è lei Black Panther perché Shuri sta facendo la parte della principessa in pericolo quindi ci sarà lei che la salverà e diventerà la donna d'azione diventerà Black Panther invece per quanto sia schillata per quanto sia per quanto sia brava è capace Nakia la vediamo infiltrarsi in un paio di nazioni la vediamo parlare lingue diverse è spettacolare quanto è brava io la amo sposami poi torna a essere relegata nel ruolo di diciamo di spalla saggia di consigliere eccetera eccetera e per poi appunto ritornare a dare il ruolo principale della protagonista a Shuri peccato perché a me Shuri come personaggio e come attrice non piace per niente ma soprattutto se fosse stata la Shuri di Black Panther quantomeno un pochino mi sarebbe piaciuto ma gli anni sono passati quindi anche l'attrice stessa non non permia più questo senso di gioventù di freschezza che aveva nel primo film perché si vede che è cresciuta è un'adulta ma soprattutto anche a causa di quello che è successo ha perso il fratello e ha avuto altre perdite non è più la stessa persona non è più così giovane spensierata di conseguenza è ancora più uno stoccafisso quindi se aveva un pochino di charme un pochino di carisma dovuto a questa sua freschezza questa sua impulsività nello scorso film e nel primo atto di questo film invece la Shuri il viaggio di Shuri la porta a essere più seria del fratello medesimo se fosse possibile questa sua mancanza di carisma mi fa anche capire quanto invece Chadwick Boseman ne avesse che sembrava appunto talmente serio da non bucare lo schermo al punto che molti hanno detto cavoli sarebbe stato meglio se Michael B. Jordan avesse fatto Black Panther perché è molto più carismatico e con questo io continuo a essere d'accordo però la mancanza di Chadwick Boseman mi ha fatto proprio capire che invece è stata la scelta giusta peccato che purtroppo il destino e la natura ha scelto diversamente il fatto sta che questa assenza del protagonista non riesce a essere sopperita da Shuri ma probabilmente e probabilmente è per questo che la palla nel film è passata a tante persone diverse ma giustamente perché il sottotitolo è Wakanda Forever quindi ci hanno mostrato vari aspetti varie visioni dell'Wakanda da parte dei protagonisti io avrei dato molto più tempo a Mbaku che ha un ruolo molto meno importante secondo me rispetto al primo film avrei dato un ruolo molto più importante del primo invece ce l'ha molto più piccolo peccato e soprattutto c'è tutta la trama con Martin con Martin Freeman con il nostro carissimo Bilbo Baggins che fa il mi viene da dire generale Rossman capiamoci non è Thunderbolt Ross è è è quello è il Ross della CIA o come dicono in questa pessima traduzione della CIA che fa amicizia con l'Wakanda in questo film non ha ragione d'essere ha una trama totalmente scollata da tutto il resto lo vediamo per tutto il tempo che telefona in modo molto aum aum con con il Wakanda e poi si l'incontra Okoye in un paio di occasioni ma non ha non ha davvero poteva tranquillamente non esserci e non ce ne saremmo nemmeno accorti parlando appunto di Okoye invece mi è piaciuto moltissimo la sua il suo arco narrativo mi è piaciuto la sua caduta diciamo e la sua rinascita attraverso quello che lei non apprezzava ovvero anche la tecnologia moderno di Shuri e sono stato felice di vedere un pochino di più le Dora Milage sotto un'altra veste sotto una veste più anche più casual più più fuori dal loro contesto gerarchico pochissimo però l'ho percepito parlerei invece anche di Riri Williams Riri Williams che dovrebbe essere la diciamo la nuova Iron Man Iron Heart ci ha spoggiato anche una fantastica armatura soprattutto nello scontro finale inizialmente dovrebbe essere appunto anche un po' la linea comica dovrebbe essere anche un po' la Peter Parker ci sono davvero un sacco di omaggi registici ad Iron Man a come si costruiscono alcune cose alcune scene sono proprio tratte a livello di inquadrature dal primo Iron Man anche dall'incontro tra Iron Man e Peter Parker in Civil War vediamo proprio la stessa battuta non posso venire con voi domani a un esame la stessa battuta che Peter ha detto ad Iron Man non posso venire in Germania perché ho la verifica domani quindi c'è proprio questa questa assonanza con il rapporto tra Tony Stark che non può essere il mentore di Riri Williams nell'MCU perché non c'è più ma lo diventerà Shuri perché è l'eminenza tecnologica maggiore in questo momento nell'MCU e Riri Williams che invece è un ragazza prodigio proprio un paio di battute gratuite sull'emancipazione della donna nera nella società americana però devo dire che non stonano perché nel totalone è gestita davvero bene tutta la trama quindi va bene e poi però appunto dopo che c'è un altro fattaccio a metà del film che va a a mostrare allo spettatore una una reazione una gestione del lutto della protagonista che non poteva essere mostrata con quella del fratello perché era morto davvero l'attore quindi non potevano mostrarci a caldo cosa succedeva quindi ci hanno mostrato l'elaborazione di un lutto di un personaggio con l'elaborazione del lutto di un altro personaggio questo secondo lutto nel film fa diventare però anche Riri Williams che è un po' la linea comica molto seria lasciandola del tutto inutile nel film perché nonostante il suo ruolo sia chiave per mandare avanti la trama soprattutto quella con Namor poteva non esserci ed era uguale è un vero peccato perché avrei preferito in questo caso un umorismo un po' Marvel che qui è mancato per ovvi motivi di cordoglio diciamo e l'ho apprezzato molto ho apprezzato molto la serietà di questo film ma a Riri Williams avrei dato un pochino più di battute per spezzare la tensione questa cosa l'ho davvero un po' sentita l'ho sentita un po' piatta nel secondo tempo del film quello che mi ha esaltato più di tutti oltre a queste cose che se c'erano se ci fossero state solo queste sì bello però dopo un po' sti cazzi ma la cosa che mi ha esaltato più di tutti è la capacità della sceneggiatura della regia ma anche della scenografia di portare alla vita due regni che non esistono che esistono solo nei fumetti quindi neanche nel libro di Tolkien dove c'è tutta la lingua elfica e dove diciamo è un po' più facile attingere no hanno preso il regno del Wakanda così come hanno preso il regno del Wakanda nel primo film hanno preso anche il regno di Namor o Namor di questo secondo film hanno creato una cultura James Cameron con il tuo cazzo di Avatar che poi è balla con i lupi con gli alieni levati dalle palle guarda questo film tanta tanta roba io sono stato molto stupito sì non mi piace Avatar scusate sono rimasto molto stupito dalla gestione del regno di Namor che era un villain che sì potrebbe avere un suo film stand alone in futuro infatti non sarebbe stato assolutamente una cosa stupefacente vedere in un suo film stand alone tutta la cultura del suo popolo e invece mi ha stupito molto vederla vedere come hanno finalmente trattato quello che è fondamentalmente un villain di questa pellicola in modo così profondo e approfondito sono riusciti a dare umanità se così si può dire a un villain dell'MCU senza però farlo diventare buono non è macchiettistico come i cattivi anni 90 non è un cattivo che non è veramente cattivo come stanno facendo con tutti i villain dell'epoca moderna ma gli hanno comunque dato profondità ed è perfetto perché Namor è così io non conosco la origin story di Namor quindi non so bene se è un mutante se non è un mutante sono sicuro che l'origine maia di Namor è fatta per il film e non c'entra col fumetto ma non me ne frega un cazzo ma di una cosa una cosa la so nel fumetto Namor è così non è buono non è cattivo è Namor Namor è il re è il padre del suo popolo e a lui interessa il suo popolo di tutto quello che c'è in superficie non gliene frega un cazzo gliene frega nel momento in cui ha un tornaconto in cui ha un vantaggio per il suo popolo ed è così che deve interpretare Namor per due motivi uno perché ormai al cinema c'è già Aquaman ha avuto successo dal punto di vista commerciale non puoi fare l'Aquaman del Marvel Cinematic Universe uguale e quindi l'hanno fatto in questo modo che è spettacolare e due ci hanno già mostrato ci ha già mostrato la DC Comics un cattivo che non è un cattivo non è un antieroe è semplicemente quello che è che è Black Adam di cui appunto arriverà anche quella recensione perché l'ho già fatta devo solo trovare il giorno giusto per pubblicarla ma non ci sono riusciti così bene cioè The Rock alla fine è un po' buono in quel film qua invece no qua è per tutto il tempo un villain nonostante noi sappiamo che nei fumetti non è propriamente un villain ma è così di carattere ed è spettacolare la gestione dell'orgoglio regale del Wakanda e del regno di Namor mi sono piaciuti tantissimo è stato fantastico mi sono praticamente immerso in ben in uno scontro tra regni tra reami fantasy in un contesto che non è proprio del fantasy cioè non non ci sono scontri nei castelli con i draghi in un'ambientazione medievale dove devo imparare la mappa la cartina e i nomi di tutta una di tutta una serie di cose che si sono inventate di sana pianta gli autori quindi non è il classico fantasy ma io fondamentalmente ho visto uno scontro tra regni fantasy e l'ho visto in modo molto l'ho assorbito in modo molto etnico che è una cosa che non ho mai visto prima ed è questa la forza di questo film quindi anche solo per questo motivo io vi consiglio di andarlo a vedere è forse uno dei pochissimi casi dove vi consiglio di andare a vedere un film dell'MCU tranquillamente che potete vedere scollegato o quantomeno non perché dovete andarlo a vedere per i collegamenti con l'MCU che è l'altro motivo per cui ero andato a vederlo ma perché è un bel film dura tanto dovete avere due ore e quaranta da buttare ma ve le consiglio ve le consiglio tantissimo sì è chiaro che uno per vederlo deve sapere quantomeno che l'attore principale che è il protagonista principale del primo film qua non c'è più ma a parte questo non si deve sapere nulla ed è un altro lato positivo di questo film la Wakanda Forever si regge in piedi da solo tanta tanta roba complimenti al regista che tra l'altro ho scoperto che ha pure un anno meno di me e ha fatto un film del genere che tecnicamente non è perfetto si dilunga un po' si vede che gli scappa un po' la mano sul il cuore sulla nostalgia sull'assenza dell'attore che non c'è più e quindi si lascia un po' andare in inquadrature che sono extra diegetiche ovvero che gliele abboniamo perché sappiamo cos'è successo ma che sennò sarebbero un po' una rottura di palle però in generale è un bel 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 film complimenti fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo film io come sempre ringrazio chi si è dilungato fino all'ultimo la visione di questo video con l'inchino e con l'imbuto vi saluto vi dico arrivederci al prossimo video